Buongiorno a tutti, sono Bosan Agnele, sono il tecnico aeroeo ECS che si occupa per quello che riguarda SWIX e sono anche trainer sempre per prodotto SWIX e oggi vi presento le novità principali che sono state introdotte nell'ultima versione che è di SWIXware 2015. Tratteremo i seguenti argomenti, faremo una breve overview per quello che riguarda la versione 2015, gli aggiornamenti che sono stati effettuati, sistemi operativi supportati, supporto del nuovo SQL server, i requisiti, il remote connector che è una novità, il sistema Mplus auto-answer, la nuova skin presentata, vari ed eventuali e una futura roadmap di ciò che verrà nel breve e nel lungo periodo per SWIX, una lista delle nuove knowledge base integrate nel sito di SWIX che parlano appunto della versione 2015 e o degli aggiornamenti. A breve overview andremo a toccare i seguenti punti, il remote connector che è una novità assoluta per quello che riguarda SWIX, in modo da poter usare il proprio client ovunque si è senza dover usufruire di una VPN, un auto-answer, lo SWIX server media manager, il phone manager resource che è praticamente, andremo a illustrare un po' le risorse del phone manager in modo da poter ottimizzare una funzionalità ottimizzata, quindi in poche parole il phone manager ottimizza le risorse dei propri telefoni e lo SWIX it skin che è una novità. Per gli aggiornamenti, il nome della versione è SWIX server 2015, la versione è la 10.0, per aggiornare fino all'ultima versione è possibile direttamente dalle versioni 2011 R2 o superiori, quindi 2011 e le varie 2013 dalla R1 alla R5. Ovviamente per poter aggiornare a questa versione abbiamo bisogno, se abbiamo versioni precedenti, della SUS. Il client 2011 R2 si può connettere ancora con delle funzionalità limitate, per esempio può fare le classiche chiamate e poter visualizzare la presenza, però ovviamente si raccomanda a tutti gli utenti di aggiornare il client il più presto possibile all'ultima release per avere tutte le funzionalità. Sono presenti le applicazioni di terze parti, che usano come sempre il config data store SDK. Adesso il configurare le speed dials, come si usava nel 2011 R2, le API non funzionano più, quel tipo 32 bit non è più sopportato, quindi da questa release non vengono più sopportati i sistemi XP32 bit, neanche vista. Partiamo dal Windows 732 al Windows 8, in cui sono praticamente disponibili il client, l'admin e il stand-alone gateway. Praticamente in caso di server virtualizzato posso usare un Windows 32 barra 64 bit o un Windows 8 1 32 64 bit per usarlo come gateway. Windows Server 2003 R2 e Windows Server 2008 non sono più supportati per il server. Vengono utilizzati solamente Windows Server 2008 R2 e Windows Server 2012 e il 2012 R2. C'è la knowledge base di riferimento è la 4622. Quindi al momento insomma sono andati tra virgolette in pensione alcuni sistemi operativi tra virgolette storici come XP che ormai come ben sapete tutti quanti non è più patchato da Microsoft, è andato in end of life e vista 32 64 bit. SQL Server supportati, il 2014 è l'SQL supportato e raccomandato. L'Express Edition come sempre è fornita nella versione del DVD e nella ISO di di Svixware 2015. L'Express Edition può venire usata per gli stand-alone o stand-by server. Svix Standby, SQL Server 2014 standard per Svix Master Server. Quindi per la versione stand-by dovrò avere sullo Svix Master Server una versione SQL Server, mentre sullo stand-by potrei avere la versione Express. SQL Server 2008 R2 o 2012 sono ancora supportati. Ulteriori requisiti per Svix Server 2015. L'installazione di Microsoft.net Framework 451. Svixware e Svixit e Svixware Amministration 2015. Anche loro dovranno aver installato sul proprio PC il .NET Framework 451. I requisiti del server, l'hardware non è variato rispetto alla versione 2013, quindi gli stessi requisiti hardware sono stati mantenuti per la versione 2015 rispetto al 2013. Il CTI Plus Auto Answer invece ha come requisiti per la Svix Dex 500 il firmware 3.22 che dovrebbe venire rilasciato a brevissimo, se non è stato già rilasciato, adesso se non sbaglio dovrebbe uscire o questa o la prossima settimana. E lo Svix Dex 800 a base station bisogna aggiornarlo per usarlo alla 7.0.5. Per quello che riguarda gli Svix Phone, l'ultimo firmware che al momento è stato rilasciato è il V2 R1.5.0 per gli L6 XX, quindi dall'L6 115 a superiori. La chronology base di riferimento per quello che riguarda gli Svix Phone è la 4189, mentre invece il nuovo FTP per poterlo scaricare o poterlo scaricare in automatico dai telefoni, la PAT è ftp.swix.com slash fv10 che è il numero della release. Adesso passiamo alla principale tra virgolette novità per quello che riguarda la versione, questa ultima versione di Svix e cioè parliamo del remote connector, che garantisce un uso di Svixit al di fuori della rete aziendale bypassando la VPN. Cosa vuol dire? Nel senso che io posso avere la connessione del client da una sede remota senza dover usufruire di una VPN. Il capitolo di riferimento all'interno dello Svix manual è il 24.1 con l'internet connection via Svix remote connector. È stato integrato nel client Svixit 2015, quindi il remote connector non posso usarlo con client antecedenti alla versione 2015 ed è controllato, il client viene controllato attraverso il remote connector service che sta in ascolto sulle porte TCP UDP e praticamente sulle porte TCP UDP c'è un continuo push per vedere se il servizio viene utilizzato. Si crea un tunnel per il SIP e il CDS che è il config datastore e le porte vengono aperte e chiuse dinamicamente per l'RTP real-time process. Abbiamo tre modalità, ovviamente Never che non viene mai usato, cioè Never nel senso che Svixit rimane sempre connesso tramite direttamente allo Svix server, che Svixit prova a connettersi direttamente in alternativa con il remote connector. Cosa vuol dire? Never, automatic e always. Never che quindi non uso mai il remote connector e lo Svixit è direttamente in sede e quindi non viene usato il remote connector perché il client rimane un nostro computer desktop e quindi rimane sempre all'interno dell'ufficio. Automatico, nel caso in cui il client non è all'interno della rete in cui viene connesso lo Svix server, provo a usare il remote connector per connettersi allo Svix server e always Svixit cerca sempre la connessione attraverso il remote connector. Questo è il primo screenshot per quello che è il remote connector server nel remote connector setting. Quindi abbiamo, come vedete, un tab all'interno che si chiama connection setting. Abbiamo server e quindi il nome del server, in questo caso Svix master punto Svix training punto private. Tra le advanced mettiamo l'uso del remote connector per il client. Quindi automatico, always and ever. Il logon, in questo caso abbiamo messo admin, il certificato invece automatico. Andiamo un po' più nel dettaglio del remote connector. Windows service, un endpoint pubblico, via port forward al remote connector service o remote connector service in DMZ separata. In questo caso necessita di una membership di dominio e molte porte aperte RTP verso la LAN. Svixit tenta attraverso le porte, le seguenti porte che sono la 16203, la 57203 e la 443 di connettersi. E la porta 443 attraverso Windows con configurato un HTTPS proxy. Le porte sono configurabili. Queste sono le porte di default. Queste porte possono venire configurate secondo altre esigenze tramite i registri. Però di default abbiamo come porta la 16203 e la 57203. Continenti proxy specializzati e l'IP address translation in SIP SDP. Controlli con RTP forwarding dipendentemente sul SIP e sul call setup. Il remote connector lo dobbiamo installare direttamente durante l'installazione della versione 2015. Quindi abbiamo tra le varie opzioni Swix Conference support, Swix Gate, Swix Link support, Mola Mobile Extension, CTI+, abbiamo anche da dover selezionare il Swix Remote Connector. Come vedete richiede 45 MB, quindi poco qui sull'hard disk e come dice già nella descrizione all'interno dell'installazione è always remote connection to swix server without vpn, quindi proprio già viene specificato che l'uso di questo modulo qual è. Il tunnel che viene creato per connettere il client al server, è un TLSP di 1.2, transport layer security protocol, l'autenticazione TLS avviene con dei client x.509, hanno un Diffie Hellman Key Exchange, hanno un perfect forward secrecy che viene confermata la sicurezza all'interno di questo certificato. La creazione del tunnel avviene sempre dallo swixit verso server, quindi è sempre lo swixit che inizia a instaurare il tunnel verso server. Non full fledged transparent vpn, è solo il traffico network specifico di swix server, cosa vuol dire? Che solo il traffico specifico di swixware viene incanalato in questo tunnel, nessun tipo di altro traffico all'interno del mio client viene instradato se non quello attraverso questo tunnel, se non quello riguardante il tunnel per la connessione con lo swix server. Traffico network completo di swixit, SIP, RTP, CDS, sempre attraverso questo tunnel, quindi tutto quello che riguarda solo e esclusivamente tutto quello che riguarda swixit viene inviato attraverso questo tunnel che vado a instaurare. Certificate management, mentre quando questo qua, come ben vedete lo screenshot, mi fa vedere il remote connector properties, già da qui si parte con la creazione delle basi per questo tunnel e quindi che è un tunnel che si basa su certificati. Quindi io posso decidere se far creare il certificato manualmente o automatico, quindi usando un certificato che crea direttamente lo swixware. Nell'automatic mode, swixware genera il certificato, root più server durante il setup, come vedete nello screenshot qui vicino, il client durante il request dello swixware MMC o swixware PowerShell, il certificato viene salvato nello swixware database e swixit scarica il certificato automaticamente. Durante la prima connessione diretta attraverso lo swixware server. Quindi la prima volta che attacco un nuovo client deve avere una connessione diretta con lo swixware server. senza questa non viene scaricato in automatico il certificato, quindi se io sono a sede remota comunque una prima volta il mio, faccio un esempio, laptop, deve venire connesso con lo swixware server, in modo da poter scaricare in automatico il certificato. Mentre invece nel manual mode tutti i certificati sono forniti e deployati e installati dall'amministrator. Quindi uso dei certificati che ho comprato, oppure che ho trovato, ho creato io con un'altra certification authority. Salvati sul Windows Certificate Storage, su client e sullo swix server. lo swixware database contiene solo i thumbprints dei certificati. Il server certificate devono contenere la private key. Ovviamente questa modalità può essere vista come più sicura, ma sicuramente più scomoda, perché ci sono molti più passaggi da dover integrare per poter avere una configurazione ottimale per quello che riguarda il manual mode. Commercial official certificates non sono richiesti, ma come ho detto precedentemente si possono usare per quello che riguarda il manual mode. Remote connector del server automatic mode. certificato, automatic mode client setting, il computer dentro la rete LAN, swixit importa il certificato automaticamente durante la connessione iniziale, connesso via LAN corporate con il server. Come quello che avevo detto prima, il mio laptop deve venire connesso una prima volta in maniera automatica al mio server per far sì che venga scaricato il certificato per poter instaurare poi il tunnel successivo. mentre invece nella parte manuale il computer non può non essere parte della LAN corporate. Il certificato in questo caso deve venire importato manualmente su swixit. L'admin esporta il certificato del user via swixware administration. L'admin distribuisce il certificato in via sicura sullo user. Lo user importa il certificato con doppio clic e wizard il certificato nel local storage. L'user seleziona questo certificato in remote connector e poi si ottiene tutto. quindi come ben vedete dalla manuale alla certificate i passaggi per la manuale sono molto più complessi. E qui c'è un grande uso. L'administrator deve necessariamente fare molti più passaggi. indubbiamente se si vuole una sicurezza maggiore si può usare questa opzione per far sì che si abbiano dei certificati che ha generato manualmente l'administrator. Però appunto in caso di grandi di più client l'installazione in questo caso diventa più difficoltosa. Ovviamente se ho un mio agente, faccio un esempio, all'interno della mia azienda ho una persona che non viene, non in modo da fare i client in modo da farli installare direttamente i vari certificati per farli installare direttamente alla persona all'interno del proprio laptop in questo caso. Però ripeto, è più macchinoso come meccanismo. Questo diagramma ci fa vedere come viene gestito praticamente la connessione. lo Swixit user A e lo Swixit user B hanno il client certificate e si connettono direttamente tramite la rete al remote connector service. All'interno del Swixit server come ben vedete abbiamo il root certificate, il server certificate, user A client certificate, user B client certificate in base al numero di clienti ovviamente che ho. La connessione come vedete parte dal principio dallo Swixit user A barra B, uno dei due, parte per contattare il remote connector e dopodiché il remote connector service rinvierà, darà il permesso ad aprire la comunicazione. per le chiamate interne abbiamo infatti come ben vedete qui abbiamo la LAN interna della compagnia, viene installato il tunnel, SIP più RTP e il remote connector service poi si connette con lo Swixit server service e da lì gli passa una chiamata in SIP, come le chiamate SIP interne vengono sempre create. Per invece le chiamate esterne abbiamo gli utenti A e B che si connettono con il remote connector service, il quale si connette poi con lo Swixit server service dopodiché con, scusate, prima con link manager fanno uno scambio e dopodiché passando tramite lo Swixit server service poi parte questi provider. Quindi di facendo il giro, Swixit user connector service fanno uno scambio con remote connector service sconnettono anche con lo Swixit server service e poi link manager in strada, tutto quanto con il SIP provider. Adesso lo vediamo meglio, invece nella parte master by scenario, abbiamo in questo caso come vedete NAT router, si connette con remote connector master, quindi Swix master server e in automatico si connette con il SIP provider. In questo caso si può, se dovesse cadere la connessione, va direttamente tramite NAT router, cambia la porta, praticamente c'è solo un discorso di porta differentemente, una volta non mi risponde sulla prima volta, fa un secondo tentativo tentativo di chiamata, quando io faccio la prima chiamata è il master attivo, lui va a contattare prima sulla 16203. Se non funziona in questo caso fa un secondo tentativo di chiamata, se non riesce ad aggiungere questa 16203, che è la porta di default standard CPU UDP, va a utilizzare la 57203 per connettersi con lo standby, quindi il remote connector sullo standby e lo Swix server standby. Qua c'è il port on forwarding, per quello che riguarda la master standby, come dicevamo prima. Il remote connector, per adesso ancora delle limitazioni, che sono in questo caso il visual contact, lo Swix fax client, l'office UC video, la possibilità di fare una videochiamata, Swix sit meeting e le extension con le skins con url interni, quindi quello che riguarda la skin WebEx extension. Per quello che riguarda il visual context, c'è una postilla da fare, a parte in questo caso abbiamo l'held up che fa riferimento all'indirizzo di loopback sulla porta 712, il remote connector cerca di estradare il traffico sulla porta 712 di default, il prerequisito è che l'held up server posta sulla macchina, Swix server, sia posta sulla macchina Swix server, o il traffico TCP stradato alla macchina Swix server all'held up server, questo per il visual contacts, che abbiamo detto che però ha delle limitazioni, non è completamente compatibile. Il registro di video seguente ci indica praticamente come è configurato il visual contact. Per quello che riguarda lo Swix fax client, le limitazioni si può configurare così, ma ovviamente come dicevo prima c'erano delle limitazioni. Lo Swix fax server sempre viene usato l'indirizzo di loopback, Assumiamo che Swix parte e non è logato, quindi in questo caso l'address book lo troviamo qui e il registro in questo caso è da cambiare mettendogli 27.001. Remote Connector, ci sono un paio di tips e tricks da poter utilizzare. Preferenza usare automatic mode del Remote Connector, ma attualmente come dicevamo prima sulle limitazioni visual context e fax client potrebbero ancora non funzionare correttamente. C'è un powershell script che setta le registry keys in maniera corretta con la network condition con la powershell. Quindi io setto queste registry key all'interno di Swixit e dopodiché faccio ripartire lo Swixit e poi dovrebbe funzionare perché non sempre appunto come detto precedentemente funziona correttamente. Se Swixit è parte interna della LAN, da settare i valori delle registry con i nomi interni e il Remote Connector metterlo su never. Se invece Swixit è parte di una differente LAN esterna, bisogna settare i registri del Remote Connector sempre su external name. Quindi in questo caso connect.swixit.it e visual contact e fax client, bisogna settarli come visto precedentemente con l'indirizzo di upback. Questi sono i registri key a cui facevamo riferimento di nuovo prima. Per Remote Connector possiamo settare il Connector Usage possiamo mettere o auto o always and ever. Il visual contact in questo caso deve essere mettere l'host 127.0.0.1, la porta da 712, mentre invece fax client idem segnando il PBX Server in questa maniera così. Possiamo configurare la porta 443 per fare un forwarding o abilitare il Remote Connector. I vantaggi in questo caso è che Swixit può venire connessa via HTTPS proxy subito sullo Swixware. attenzione che non ci siano ulteriori servizi sulla macchina che usano la porta 443, tipo un web access o un IAS. la chiave di registro per le tunnel list link ports è la seguente, che vedete qua sotto. C'è un altro trucco per generare un certificato user automaticamente via PowerShell e questo codice qua, che poi dopo posso passarvi. nuova PowerShell CMD let, user get, questa qua è un'altra parte di codice che vi posso far avere per quello che riguarda le operazioni da PowerShell. altri aggiornamenti, il CTI auto-answer, le chiamate ausiliari adesso sono automaticamente accettate anche dagli hands-free speaking mode. i requirements sono, come dicevamo prima, lo SwixTech 500, il firmware 3.2, lo SwixTech 800, il firmware 7.05 o successivi. i device devono supportare l'RFC 5373, il device SIP. si può disabilitare da registro, lo SwixTech Server Media Manager, si può abilitare o disabilitare. questa feature è una feature sperimentale, è una feature per gestire delle media stream multipli praticamente. è ancora una feature in fase di testing, quindi non si può usare ma ci sono anche qui ancora dei bug, quindi tra virgolette ne consiglio l'uso o in fase di testing oppure l'uso successivo. il PhoneManagerResource invece è stato messo come future migliorire ma in realtà è stato già implementato. l'uso dell'handle per telefonare è stato ridotto da 20 a 3 handle, quindi c'è stata un'ottimizzazione delle risorse. per esempio per telefono, se ho 1000 telefoni connessi, prima avevo 3000 handle più 5000 base. e l'uso della memoria in questo caso, in questa maniera, l'uso della memoria per i telefoni è stato ridotto del 15%, quindi ho uno sfruttamento migliore delle mie risorse all'interno del PhoneManager e quindi un miglioramento delle prestazioni. abbiamo una nuova skin che è stata concepita anche per un supporto per i touch screen, scusate, è supportata per le risoluzioni in HD. la skin dello Swixit 2013 è ancora stata come default, mentre ci sono ancora delle piccole migliori da fare per quello che riguarda la skin, perché alcune stringhe risultano leggermente tagliate, come si vede nello screenshot. Michelinius, il web access è lo stesso usato per la versione 2013 L3. Swixit Mobile Apps del 2013 è ancora usabile. il web access 2013 L3 non è stato inserito nel DVD come per la vecchia release, ma è scaricabile alla seguente knowledge base, la 4565. è compatibile con Swixit 2015 e usabile con Swixit Mobile 2013. la nuova release del web access sarà disponibile a inizio 2015 sia per iPhone che per Android. è stato cambiato all'help, non è installato più localmente in formato CHM, lo Swixware Administration non è più usato né per Swixit, Swixware e Swixware Fax Client, è stato rimpiazzato da una base web creata in HTML5 e c'è il sito di riferimento help.swix.com è più facile da aggiornare, quindi abbiamo la comodità che è molto più semplice l'aggiornamento da parte di Swix, di questo help, che non avere il vecchio help all'interno del vecchio help online. ci sono ancora i vecchi PDF all'interno dell'help, all'interno del DVD scusate. la parte del G6 e il CRM hanno ancora una parte di help online che è ancora CHM, è basata ancora su CHM, però dalla prossima release verranno tolti anche questi e di quanti in HTML5. per la roadmap c'è in arrivo un nuovo IP DECT, il phone che sarà il D565, come detto precedentemente il nuovo firmware DECT che dovrebbe uscire a brevissimo, verrà creato un nuovo client Swix mobile, IP telefoni, SIP per smartphone, tablet, iOS e Android, e finalmente, cosa che è stata richiesta più e più volte, verrà creato un client per Mac e questa cosa verrà, se non sbaglio, abbiamo già detto come all'inizio sono già sbilanciati da una data, poi è stata ritrattata, comunque a inizio 2015, verso al massimo febbraio, si parlava di questo nuovo client, finalmente un client totalmente compatibile e ufficialmente supportato per Mac. hanno detto con largo anticipo febbraio, probabilmente sarà prima. di seguire tra i seguenti knowledge base, che sono appunto le knowledge base classiche che vengono date ad ogni release, una sullo Swix, dove i vari componenti, i sistemi operativi, come visto prima, i sistemi operativi supportati, le raccomandazioni hardware, le porte, che sono state, la knowledge base delle porte è stata modificata mettendo anche appunto le ultime porte per Remote Connector, c'è una O2 appositamente creato per lo Swix Remote Connector, quella sul web access è rimasta la stessa l'anno scorso, per la versione precedente. Per le capabili dello Swixit, sempre l'SDK, il client SDK che è ancora compatibile con la versione 2015, il config data store API SDK, che verrà a breve aggiornata invece. Se ci sono domande, sono disponibili all'indirizzo internet, all'indirizzo email del supporto, che è supporto, chiocciola, arroics.it e Grazie.